In questa notte di doia e di trepidazione, noi siamo certi, è qui che è andato il salvatore. A Bethlehem ci ha guidato una stella luminosa nell'aria e nel cielo blu della notte. Chiaramente ci indicava quali direzioni dobbiamo seguire, così fulgida da non lasciare perplessità nel nostro animo. E tu Bethlehem, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo napologo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che bascerà il popolo di Israele. Così il profeta Michea aveva annunciato un grande vento, così grande da compromettere il potere legale della terra, così grande da non temere confronto a alcuno. E noi che conoscevamo le parole del profeta attendevamo che dal cielo, che tutto rivela di quanto cade in terra, ci arrivasse un segno. La rivelazione che ciò che i Sergi annunciarono si era compiuto. Il nostro viaggio però non è stato solo il cammino di Maria Giuseppe, la cui fede, così grande e così autentica, era al pari del nostro amore di conoscere. È stato ed è il cammino di tutti quanti, con noi e dopo di noi, i secoli futuri che vedranno davvero in una certa notte, il figlio di Dio si era fatto uomo e saranno disposti ad accoglierlo. La storia ha iniziato più di 2001, in una piccola città italistina chiamata Nazareth. Lì viveva una facciulla speciale che confidava dell'infinita volontà del Dio che tutto ha disegnato. Il suo nome era Maria. Un giorno riceverte una visita inaspettata. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Chi sei? Quando ti fai, me ne vado. Niente meri, Maria, che hai trovato a casa presso Dio. Ecco, conciperai un figlio, dovrà la luce e la chiamerai a Giove. Sarà grande e verrà chiamato figlio di Dattino. Il Signore Dio gli darà il trono di suo parale d'abile, e vennerà per sempre la casa di Giacobbe, che il Signore Dio non avrà finito. Ma come? Io non conosco nessuno. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te scenderà la sua ombra. L'ultima ci racconterà il Santo. Ti sarà chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, la sua vecchiaia, ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei. Tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a te. Eccomi. Sono la selva del Signore. Avvenga di me quello che ha detto. Giuseppe, per suo sposo, che era giusto, aveva ancora dei rubbi sul figlio che aspettava, sua moglie Maria. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore. Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe. E dove sei? San Angelo del Signore. Che cosa devo fare? La moglie Maria dice di essere incinta nel figlio di Dio. Giuseppe, figli d'Anne, non temere di prendere con te Maria tua sposa, e la tue fraternità un figlio, per chiamare i tuoi genitori, e gli salverà il vostro popolo del tuo peccato. in quell'anno su Dario Augusto avevo ordinato che si facesse il censimento di tutta la nomorazione di Pippero ogni uomo con la sua famiglia doveva ricarsi nella società d'origine per registrare il suo nome e la sua casa così anche Giuseppe doveva anche partire per probleme Popolo della Galilea Popolo di Nazareth cittadini di Roma udite e prestate l'orecchio alla voce che vi parla della parola e la legge di Roma imperiali che parlano imperatore di Roma e di tutta la terra ordina l'accessimento di tutti gli uomini e delle loro famiglie in tutto il territorio dell'inverno ogni uomo libero a partire da domani e fino al prossimo solstizio di inverno ogni capofamiglia ogni laboratorio ogni responsabile ogni artigiano padre e contadini avranno l'opera di recarsi con la sua famiglia nella sua città d'origine che registrae il proprio nome e la propria casa l'ordine di Censier Auguste re e l'imperatore di Roma e di tutta la terra conosciuta e valida da oggi vi vedo stanchi avete fatto molta strada da dove venite? veniamo dal Nazareth sono fatto circa 180 km per venire qua a Bethlehem e come mai siete io a Bethlehem? siamo venuti per il cittamento perché è stato deciso come è stabilito dal profeta che Gesù mi abbride e deve lasciare il proprio posto vi auguro buona passione grazie mille io mi chiamo Giuseppe e questa è mia moglie Maria siamo venuti qua dalla terra di Davide sì sì va bene allora registrati vostro nome e andate via c'era poi una luce che si espandeva sulla strada ed alcuni rumori che indistinti la bevano nella strada provenivano da un laboratorio che costudiva le attività di tutti coloro che abitavano negli intorni quante mani mani che imprecciavano mani che modellavano il legno mani che restituivano splendori ad antico mobili ognuna era un simbolo simbolo di un'intera vita racconta raccontava la fatica dopo le interrotte di lavoro ma anche la gioia di tornare alla propria casa raccontava il dolore per le vicende turisti e le emozioni la riempigazione nel vedere realizzati i propri sogni raccontava la seducia dopo un grande avvenimento e la serenità tranquilla che derivava dall'amore della propria famiglia c'era un avvenimento racchiuso in quella mura non c'era bisogno di quanto abbaticarsi per scoprire la realtà bastava fermarsi un attimo e osservare quelle mani stancabili che lavoravano svelte per comprendere che nonostante avessero sempre abitato in quel paese nulla di ciò che è importante era loro il mio Guido abitava in una bella casa nel cuore del paese quando era seduto sulla sedia ormai vecchia all'ogora poteva vedere ogni movimento della maggior parte degli abitanti a cominciare da Dina era proprio di di fronte chissà come Guido che aveva molto tempo da abitare ad osservazioni nessun lavoro nessun impegno forse la fortuna lo aveva prodotto di quanto gli serviva per vivere forse una vita parsimoniosa durante gli anni che mi sentiva ora di guardare gli altri mentre erano in tanti a lavorare il suo tavolo del cazzolaio ora ormai disuso sebbene costruito un cura e Guido mi si sedeva raramente mi si sedeva accadeva talora che qualcuno lo pregasse con molta insistenza di risistemare un paio di stivali o di scarfoni spiegando ma erano importanti e come nessun altro che sia abbastanza bravo da riuscire bene a una cosa simile allora Guido riprendeva il suo banco lo metteva davanti a casa alla luce del sole perché i lavori vengono in meglio diceva lui e preparava le spalle con la maestria di sempre come se non avessi mai smesso come se mai si concentrava da quel tavolo davanti a un grande fuoco stavano molte donne a volte rimanterne erano con loro alcune bambine le più piccole giocavano allegri e altre osservavano con attenzione le mamme e le nonne per capire i segreti del lavoro ne stavano svolgendo di generazione in generazione l'arte del filare la lana di Piericamo del trasformarla da morbido fiocco a caldo indumento si trasferiva di madre in figlia e se si trattasse di un importante segreto scientifico dal costruire ce l'ho da mente e sempre quest'arte era affinata e migliorata grazie alle idee che nascevano davanti a quel fuoco e che tutte discutevano insieme per assaggiarne la valentà mi potessi risolvere un po' questo facciato perché non mi riesce a trovare certo cara allora prendi un po' via per il livello per il video continua e poi scusi signora sono Giuseppe vengo da Nandale che è dalla ragione Galilea e siamo venuti qui a Berlame per il censimento ma ormai si è fatta notte e mia moglie Maria ha molto fede non è che per caso ha una coperta per coprirla cosa cerchi straniero? ci siamo occupati non troverai carità da noi non guardi all'estra nero a volte un po' scontrosa ma a buoni dei cibi mi stavate in gioco che vostra moglie ha freddo? è stata calda oh è incinta nero sei di là a coppiti che cazzo mi piace niente sicuro ma quindi siete qui per il censimento ma come farete? questa moglie è incinta lontano da casa io sono la zelva del signore e non avrò paura finché lui è con me ma ora che è notte abbiamo messo in un posto di dormire la meto qualcuno più avanti c'è una locanza ma fate presto forse non avrà in un posto grazie mille il signore vi ricompenserà dal forno ripeteva in larga misura l'esistenza degli abitanti del paese unico e a disposizione di coppiti quasi quotidianamente veniva accedo e scaldato poi vi si metteva dentro il pane con un bacio ogni famiglia compieva questo rituale una volta alla settimana di buon mattino si preparava l'impasto lo si metteva nella gramola e lì per lungo tempo lo si lavorava finché non diventava lucido e omogeneo poi si ribadita della limitazione tempo da attesa durante il quale si accendeva il forno e lo si conduceva alla giusta necessità e lo si accendeva il forno